E siamo così arrivati alla 35esima puntata del vostro rotocalco salute, ben ritrovati, è l'ultima puntata per questa stagione. Ci siamo dati questa ambientazione come vedete, Pedemonte, provincia di Verona, Villa del Quart, un resort che ha anche al suo interno una ristorazione di qualità, relax quindi ma anche al servizio della buona cucina. Una cucina tutta particolare, quella che le nostre immagini vi stanno già documentando, vedete al lavoro un grande chef che è Bruno Barbieri perché abbiamo chiesto a Bruno oggi anche partendo da un libro che lui ha scritto di dirci tutto su quel che significa la cucina e le intolleranze alimentari o meglio celiachia tra le intolleranze alimentari. Insomma un'ambientazione di classe anticipando un poco il momento vacanziero ma all'interno tanti servizi è un tema fondante. Intolleranze alimentari principalmente la grande cucina e i celiaci. Sommario. In questo numero Spisal Sicurezza sul lavoro I rischi rilevanti nelle industrie chimiche portuali Guadagnare salute Un progetto della regione per promuovere gli stili di vita Allergie possono essere causate anche dagli alimenti Incontinenza Quella femminile è anche un tabù da smantellare Estate Meno sole fa bene alla pelle Meglio un effetto trucco per sembrare abbronzate Fisioterapia Quella in acqua è consigliata per ritrovare dopo un trauma osseo Armonia nel movimento Zanzare I consigli dei veterinari per combatterle Allergie Grazie a tutti.